Enzo Barbieri è la tradizione più vera di Calabria. La cipolla rossa experience è un po' l'occasione per parlare e mettere a fuoco la Calabria, le tradizioni della Calabria e la cucina della Calabria. Enzo Barbieri è uno dei ristoratori più noti. Ad Alto Monte, al ristorante Barbieri, ci si va per mangiare cucina del territorio, i prodotti che fate anche voi. Ecco, com'è questa riscoperta? Come l'avverti? Io le dico che da sempre ho sostenuto che un ristorante privo della cipolla rossa di trope è un ristorante orfano. Non si può fare cucina senza avere a disposizione un cesto di cipolla rossa di trope. A questo in Calabria è un tutta Italia nel mondo. Io sostengo in tutta Italia. Non è per questo di campanilismo. Perché io ho provato tante cipolle, ho provato le cipolle di Bologna, ho provato la cipolla bianca di Castrovilleri che li mitra fanno io, ho provato tante cipolle. Buona e tipica come la cipolla di tropea non c'è nulla. Io con la cipolla di tropea riesco a realizzare ricette uniche e straordinarie con dei sapori che non trovo in altri. Diciamo che la cipolla è il passepartout per fare una buona cucina, ma riguardo alla cucina calabrese, qual è il suo stato di salute oggi? C'è effettivamente una riscoperta da parte di tanti altri cuochi? Assolutamente, credo che c'è da dire una cosa, che anche aiutati dai nostri enti superiori, dalla regione, che sta facendo finalmente una bella politica a favore della tipicità dei prodotti DOC, IGP, che sono tanti in Calabria, e che sta promuovendo queste belle eccellenze, c'è stata una bella riscoperta. Io vi vanto e sono un po' presuntuoso, dico che sono stato uno dei primi a rilanciare la cucina dei territori, a far capire che la cucina del territorio per i calabresi è una grande opportunità. E parliamo di cucina tra l'altro dell'interno. Io parlo cucina dell'interno perché io vivo all'interno e ho sempre promosso la cucina dell'interno. Noi abbiamo questo grande segreto, abbiamo una dorsale appellinica che è una miniera di sapori, di giacimenti, di prodotti unici. Abbiamo le coste eccezionali, abbiamo i prodotti dei parchi, pensi il parco del Pollino, la Sila, la Spromonte. Sono territori che sembrerebbero isolati, però questo isolamento è praticamente una ricchezza perché in questi paesi isolati, in questi territori un po' chiusi, si sono preservati delle tradizioni che oggi sono una bella riscoperta. E degli abitat, oggi che si parla di sostenibilità, lì si va proprio alla radice. Pensi solo a cosa facciamo noi con il pane, no? Io stasera sto presentando un semplicissimo pane di alto mondo, meraviglioso, pane fatto con il forno a legna, lievi tomate, le farine autoctone. La gente lo sta assaggiando, dice ma noi possiamo comprare questa minigua? Signori, purtroppo il pane stasera non è in vendita perché non era previsto. Però noi anche col pane stasera, io dico sempre che in Calabria per fare un piatto bastano pochi ingredienti di altissimo livello. Il pane, l'olio e l'ingredito da cipolla.